Mano pesante della Procura della Corte dei Conti su amministrazione e Consiglio Comunale di Milazzo. L'organismo di controllo ha presentato ricorso per l'applicazione di una sanzione pari a poco più di 88 mila euro in proporzione a indennità e gettone di presenza percepito. Alla base ci sarebbe la mancata attuazione del controllo dei bilanci del Comune negli anni 2016 e 2017. La sanzione richiesta dal PM della Corte dei Conti scaturisce dalla violazione dell'articolo 148 del testo unico degli enti locali, comma 4, a causa dei mancati controlli di gestione che avrebbero ulteriormente complicato la gestione dell'ente municipale dissestato. Il sindaco Giovanni Formica dovrebbe corrispondere una somma vicina ai 17 mila euro, il vice sindaco italiano 9 mila e 600 euro, gli assessori Torre, Trimboli, Presti e il presidente del Consiglio Anastasi 7 mila euro, mentre l'assessore Di Bella e l'ex assessore Maesano 3.900 euro. I consiglieri comunali dovranno pagare 821 euro ciascuno. Lo scorso 19 novembre la Corte dei Conti aveva inviato una richiesta di chiarimenti al Comune chiedendo un resoconto scritto. L'amministrazione chiese e ottenne un'audizione nello scorso dicembre. I consiglieri comunali sembrano intenzionati a presentare ricorso. Per l'amministrazione spetterà il sindaco Formica a dimostrare la correttezza della condotta dell'esecutivo.